Il suo collega ha definito Gentiloni vassallo di Trump. Il suo collega mostra ad esempio in Libia, in Iraq, in Afghanistan che qualcuno, la Francia, si è preso il petrolio e noi siamo presi i flussi migratori. L'Italia, il governo deve stare fermo in questo momento, non deve partecipare a questa guerra, che riteniamo fortemente sbagliata, e non deve specialmente esporre i cittadini italiani a un enorme rischio come quello di partecipare a questa guerra. Qui non c'è niente da scegliere, noi scegliamo semplicemente per la pace, se scegliamo semplicemente di rispettare i diritti umani. Qui siamo di fronte a uno scenario che potrebbe diventare un nuovo Iraq, una situazione che ha causato già un milione e mezzo di morti civili. Allora, se di fronte a un rischio di questo tipo si mettesse una volta tanto la logica del provare la soluzione diplomatica e la pace, davanti agli interessi magari anche economici, forse riusciremo a parlare veramente da governi maturi e con una concentrazione reale sull'interesse dei cittadini. Di Stefano, lei dice che l'Italia dovrebbe stare ferma, intanto però in Siria c'è la guerra. Ripeto, quale guerra non fa morti? L'Iraq ne ha causati un milione, l'Afghanistan quasi 500 mila. Il problema è chiedersi allora perché ci sono delle guerre e lavorare a livello diplomatico e politico sull'evitare che nascano guerre civili come quella che in Siria va avanti da anni. Cioè quindi fare un tavolo con un Assad? Bisogna necessariamente mettere al tavolo tutti quelli che sono coinvolti oggi. Qua la questione va oltre Trump, Putin. È una questione internazionale, è una questione dove l'Italia è fortemente coinvolta pure. Quindi, ripeto, anziché appoggiare uno scontro armato che non porta mai a nulla di buono, ditemi una guerra che ha risolto un'altra guerra. Non è mai successo. Allora bisogna necessariamente fare un tavolo di dialogo serio per arrivare a una soluzione pacifica. L'Italia fa parte del Consiglio di Sicurezza? Questa è la cosa simpatica. Il Consiglio di Sicurezza è stato totalmente scavalcato da una decisione unilaterale degli Stati Uniti d'America. Questo ci dovrebbe portare a un'altra riflessione. Cosa è diventato oggi le Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza?